Siamo 2-1 in questa esibition fra Fornello e Gaian, dopo aver redarguito pesantemente Gaian per aver spammato come un cretino, speriamo in un gioco, non dico onesto perché poverino non è in grado, ma in un gioco decente da parte del burino di Feltre, di Roma, di Gatina, dove è il buco del nero di merda da cui viene, insomma. Vediamo cosa farà con il suo main character, trappi rossi, forse sembra che abbia l'amministrazione, tech trap da parte di Rock, vediamo come non riuscirà a fare Rock contro questo spadaccino bastardo, e rendiamo noto che a nostro avviso Astro c'è la pace della vita contro Sigrid, vediamo come si comporta il Rock di Fornello, culate elettriche che mancano, combo inutili di Gaian, presa muzzata di A, riuscirà a rialzarsi senza subire di nuovo, per me lo pare, mix up inutili, giro chiesa scimmiata, basso sgravato, presa garantita, danno garantito, se ne va a f***o Gaian, povero stronzo. Secondo run, vediamo se Gaian riuscirà a reagire, ma attenzione, home run col povero corpo di Sega Freda, che scimmi ha mossa a caso, un po' risultato, Rock continua a punzecchiare, gioca a Saves, però si è subito un combo descrittamente pesante, ginocchiata in faccia, piedino di Rock, il gioco è molto delicato, il cavernicolo, ginocchiata elettrica inutile, grandi comodi, Gaian che prova la trappoletta con un tocabile, ma non riesce, la sua clava cubica, Rock zappa le caviglie del povero idiota, si dice che va in stanza, spinto, non vediamo se ci casca Rock, non ci casca, piedali, si infazza, arriva tra i dimarchi di Gaian, però Shimmer guarda l'impact presa di B, scrotto in bocca ad Aian, poverino, si è fatta una buffata di castagne primordiali sugate. Il gioco solido da parte di entrambi, che provano ad intrappolarsi e punzecchiarsi di Medi, nessuno vuole sporsi, frame trap di Gaian, presa di A, gioco al muro, vediamo se riesce, nuovamente presa di A, Gaian è un lamer assurdo, ha preso la barra di Rock luccica, stun, presa volante, danno garantito, pedaliti, sta subendo le ciabattine pelose di Rock, tra i bimbo, che non vale anche i stage Gaian convinto di entrare, infatti aveva ragione, 2-1 per Fornarina, vediamo cosa succede, mosse inutili, brilla la barra di Rock, tentativo di take trap, fallito, pare al basso, scimmiata con presa laterale, lo ribalta come un guanto, pieno di sudore e peli, scorso, chinochietta elettrica, throw break, mattata nel cranio, zarpata sulle caviglie, splattata di A, furioso, già sprint Poseidon, attenzione, spettacolare, tanto inutile, apprezziamo il tentativo, AGI già sprint, infezione densa, fa tecnico, scimmiata, povera barra di Rock, brilla sempre di più, adesso in questo momento, la partita comincerà a scimmiare a caso, però Fornarina, gli abbaia nel teschio, non gli permette di reagire, lo brutalizza, lo scaraventa nel vater, le fa ruotare il suo clava da rincoglionito, guardate che personaggio di merda, però questa volta ha vinto, 2-2. Il lo tempo va fare il notte, lo scar救are, per il suo clava, ossia inutile, makarata,